In prima linea della dura battaglia contro il coronavirus, ma anche i più esposti al pericolo di contagio, sono medici, infermieri e personale sanitario a pagare il prezzo più alto alla crescente diffusione dell'epidemia. Un dato che trova ulteriore conferma nei presidi sanitari della provincia BAT. Tra il personale in servizio all'ospedale Bonomo di Andria salgono a 18 i casi di positività al coronavirus distribuiti tra diversi reparti. Negli scorsi giorni hanno sospeso le loro attività sia la medicina interna, dove i contagi accertati sono almeno 8, tra cui 5 medici, sia la pediatria. Mentre dopo le operazioni di sanificazione è tornato attivo il laboratorio di patologia clinica, dove tra tecnici e biologi si erano registrati diversi casi di positività al covid-19. Fa ripuntati anche a Biceglie, dove viene costantemente monitorata dalla ASL la situazione dell'ospedale Vittorio Emanuele II. Quattro operatori del nosocomio sono in isolamento domiciliare dopo essere risultati positivi al tampone, tre del reparto di pediatria chiuso e sanificato, uno in servizio alla cardiologia. Ieri sera il sindaco Angarano aveva spiegato in un videomessaggio che i casi complessivi a Biceglie erano diventati nove dopo la positività accertata di un medico in servizio ad Andria, di due pazienti ortofrenici del Donuva e di un dipendente delle poste. Intanto si aggrava nel territorio della BAT il bilancio delle persone decedute trovate positivi al coronavirus. Nelle ultime ore sono scomparsi un 63enne di Andria ed un 65enne tranese, entrambi ricoverati in terapia intensiva a Biceglie. Nella città di Barletta, dove i casi accertati sono almeno 14, è stato trovato positivo e posto in isolamento domiciliare un operatore in servizio alla farmacia territoriale del distretto sociosanitario di Piazza Principe Umberto. La stessa persona lavorava anche nella farmacia territoriale di Margherita di Savoia. Sia a Barletta che nella città delle saline sono state avviate attività di sanificazione dei locali in cui la persona contagiata ha operato. Il sindaco di Margherita, Bernardo Lodisputo, assicura che l'operatore in questione abbia sempre lavorato adottando i dispositivi di sicurezza individuale. Intanto all'ospedale di Biceglie, presidio di riferimento del territorio per l'emergenza legata al coronavirus, sono cinque le persone attualmente ricoverate in rianimazione e sette i pazienti in via di dismissione. Grazie.